Siamo con Sergio Brivio, il nostro esperto meteo di Trebimeteo. Allora, Sergio, come sarà il weekend? Sarà un weekend a due volti, infatti se nella giornata di sabato sarà ancora il sole prevalente, seppur qualche velatura comincerà a farsi vedere nel corso del pomeriggio, nella giornata di domenica attendiamo una perturbazione di origine atlantica che porterà un po' di piogge, da dire la verità sarà una giornata nuvolosa ma con deboli piogge intermittenti. I fenomeni infatti saranno più probabili e insistenti sulle zone di bassa pianura. La prossima settimana invece cosa dobbiamo attenderci? La prossima settimana vedrà ancora un'alternanza di episodi instabili, molto veloci, a fasi più asciutte e soleggiate. In sostanza quindi attendiamo ancora qualche fenomeno nella giornata di lunedì, soprattutto in serata, poi il tempo dovrebbe ritornare a volgere al bello, infatti l'alta pressione di matrice atlantica, quindi l'alta pressione della luce, riuscirà a prevalere e a portare a una fase in prevalenza soleggiata, seppur non tutti i giorni. Quindi direi che dovremmo attenderci una settimana sostanzialmente gradevole dalle caratteristiche settembrine, quindi temperature al mattino fresche, diurne piuttosto gradevoli. Comunque l'estate è veramente finita? Sicuramente al nord è finita, al centro-sud probabilmente ci saranno spazi per delle rimonte di aria più calda dal sapore estivo.